She-Hulk episodio 8 Ci voleva Daredevil Ci voleva Daredevil ragazzi Finalmente è arrivato questo episodio E poi ci leviamo stasera E bentornati su No Mamamazzo Bentornati nella rubrica serie tv E nella rubrica Marvel Sapevamo tutti che questo momento sarebbe arrivato Sapevamo che il momento più alto Forse della serie televisiva She-Hulk Che al momento conta una stagione E che non sta proprio accontentando tutti Perché ok essere leggera Ok essere nata come commedia Però ha avuto davvero diverse puntate molto vuote Qua finalmente le cose cambiano Ma devo dirvi Secondo me non è solo merito di Daredevil O meglio della presenza di Daredevil sullo schermo Ma è anche merito del fatto che probabilmente Sapendo quanto i fan tengano Daredevil Non lo so Gli sceneggiatori si sono cagati un po' tutti in mano Oppure i vertici Marvel hanno detto No no su questa puntata voglio che investiate tutto Ed effettivamente questa puntata Questo episodio è scritto meglio È scritto bene Mi è piaciuto tutto C'è un bel caso che è trattato bene Perché? Perché Il personaggio di Daredevil Matt Marduk è un avvocato anche lui E quindi finalmente La causa legale non si risolve in 4 e 4 e 4 e 8 Ma si usano dei termini legali Finalmente in maniera un pochino più approfondita Ci sono delle disquisizioni Dal punto di vista legale Su cosa fare Su questa da prendere piuttosto che un'altra Finalmente si è visto un po' di legal drama E ci voleva un secondo avvocato supereroe Peccato che non c'è stato questo livello di legal drama O scusate legal comedy Nelle altre puntate Prima di cominciare se ancora non l'avete fatto Vi chiedo di iscriverlo al mio canale Di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video Anche a tutti gli altri che vi frega Di condividere il video con tutte le persone Che hanno un costume giallo nell'armadio E di commentare qui sotto Con quello che viene parso Di questo episodio Di questa serie in generale Se aspettate altre serie In cui apparirà Il Daredevil di Charlie Cox Scrivetemi se pensate che secondo voi Questo Daredevil è canonico o meno O meglio scusate mi sono espresso male Scrivetemi se secondo voi Questo Daredevil è lo stesso Della serie tv Netflix O è stato rebuttato Scrivetemi Io adesso vi dirò la mia Sapevamo che ci doveva essere anche Frogman o leapfrog Come lo chiamano In questo episodio E devo dire che è stato inserito molto bene Perché appunto È servito in un certo senso A introdurre poi il personaggio Di Matt Marduk E di Daredevil Spiego in 4 e 4 8 Se non lo so Una persona non ha visto l'episodio Ma non gliene frega un cazzo Dello spoiler Fondamentalmente Questo leapfrog Si presenta come cliente Nello studio legale di She-Hulk In quanto supereroe Poi non so che poteri abbia Io credo che abbia poteri Che siano dati dal costume stesso Ma comunque si presenta Allo studio di She-Hulk Che tratta casi superumani Perché? Perché è un figlio Di genitori ricchi Come dice Jennifer Walters E quindi lo devono Rappresentare Dal punto di vista legale Fa causa Niente po' po' di meno Che allo stilista Lì Che ha fatto l'abito Di Jennifer stessa E sappiamo Che questo stilista Ha preparato anche Il costume Per Daredevil Infatti L'avvocato Di questo stilista Niente po' po' di meno È che Matt Mardock E finalmente La mia preoccupazione Era che non fosse giustificato Il fatto che un avvocato Di New York Arrivasse fino a Los Angeles Invece è giustificato Da questo Ovvero dal fatto che Matt Mardock Ha tutto l'interesse Di rappresentare Al meglio Questo caso Perché non vuole Che vengano rilasciati I nomi Degli altri clienti Dello stilista Perché potrebbe esserci Anche il suo Oppure semplicemente Potrebbe esserci Il nome di Daredevil E lui non vuole Che si sappia Che Daredevil Abbia fatto fare Questo costume Questo nuovo costume giallo Questo suo primo costume giallo Non lo sappiamo Da questo stilista E di conseguenza Ha tutto l'interesse Per vincere Nel vincere questa causa E devo dire Che è molto molto bravo Così bravo Che impressiona Persino Jen Sia dal punto di vista Legale Sia dal punto di vista Del fascino Sappiamo che Daredevil Che Matt Marduk Non è nuovo A essere un personaggio Affascinante Sia nella serie Netflix E sia nel fumetto Daredevil è uno Sciupa femmine Lo sappiamo Praticamente tutte Le sue villain Sono gente Che si è portato a letto Quindi Mi è fatto finalmente Piacere vedere Questo aspetto di Daredevil Che per carità Avevamo già visto Anche Nella serie Netflix Perché comunque C'è un momento Di intimità Con Claire C'è un momento Di intimità Con Karen Page E c'è un momento Di intimità Con Elektra Tutte persone Claire credo sia Un personaggio inventato Però Karen ed Elektra Sono persone Con cui ha avuto Storie in passato E devo Nel fumetto E ci sono stati Anche dei momenti Dove Karen si sente Un po' tradita Da Matt Perché si trova Elektra Nel letto di Matt Ora È vero che Tecnicamente Non l'aveva tradita Perché era lì Per curarsi Dalle ferite Della mano Ma ciò non toglie Che Matt Non stava raccontando Tutto a Karen Quando Elektra È entrata di nuovo Nella sua vita Quindi Questo aspetto Di Matt Di Matt Mardock Che non è Completamente Corretto Con Con le fidanzate Con cui sta È un aspetto Che si è visto Anche nei fumetti Precisamente Nella saga Di T. Floyd Mary E quindi In questo episodio Mi è piaciuto Moltissimo Anche il flirt Che ha avuto Con She-Hulk Perché noi Non sappiamo Appunto Se questo è Un Daredevil Che sta muovendo I suoi primi passi Nell'MCU Oppure è il Daredevil Della serie Netflix Che fino all'altro Ieri era canonica E che sta Cercando appunto Di rinascere Da cui la serie Porn Again Sta cercando Di rinascere Dopo Diciamo L'infamata Del costume rosso Usato Da Bullseye Da Dex Point Da Point Dexter E quindi Potrebbe anche Giustificare Il motivo Per cui Si è creato Un nuovo costume Giallo Questa volta Dorato A differenza Di quello rosso Che appunto Era stato usurpato Da un millantatore Chiaramente Lui voleva Era ritornato Al suo costume Nero Ovviamente Dal punto di vista Extra narrativo Lo aveva fatto Perché piaceva di più Ai fan della serie Netflix E quindi è ritornato A indossare La sua felpa nera Ma sappiamo tutti Che con quella felpa nera Se ti sparano Ti becchi un proiettile Quanto meno Quell'armatura Che aveva Quella divisa Che aveva Lo aiutava Ad attutire i tagli Lo aiutava Ad attutire i colpi In testa Di pistola Che per esempio Ha ricevuto dal Punisher Nei primi episodi Della stagione 2 E in questo modo È di nuovo protetto Ma ha un costume Diverso da quello Che è stato Appunto usato Per fare del male Per uccidere Nella stagione 3 Va principalmente Di casi pro bono E poi prende anche Dei clienti Facoltosi Per pagarsi le bollette Poi noi non sappiamo Se lo stilista In questo caso È un cliente Facoltoso O è un caso Pro bono Che metta preso Per pagargli il vestito Per pagargli il costume Da supereroe Ma il fatto che non Specifici Specifichi Se è parte di Nelson e Marduk Può essere Sia perché Non sappiamo Se è ripartita Nelson e Marduk Dopo la stagione 3 Di Daredevil O non sappiamo Se deve ancora partire Perché questo Daredevil È un reboot Così come quando Daredevil È un pochino Stupito Del fatto che She-Hulk Non sappia Della sua identità Di supereroe Potrebbe essere Determinato Dal fatto Sia della distanza Perché a Los Angeles Non sanno Non conoscono I vigilanti I vigilantes Di New York Perché comunque Non è come Spider-Man Che è stato negli Avengers Che è stato nello spazio Eccetera È un eroe Molto urbano E quindi Ci sta che Non venga conosciuto Fuori da Hell's Kitchen Fuori da New York Ma può anche Semplicemente Essere dovuto Al fatto che Lui è alle prime armi E questa sia stata Un'esclamazione Da orgoglio ferito Ma come Sono Daredevil Non mi conosci Magari è iniziato L'altro ieri Un po' come Ant-Man in Endgame Che si presenta I bambini Per farsi Per proporre Un autografo Ma tecnicamente I bambini Non lo conoscono ancora Perché Perché Ha fatto solo missioni Chiamiamole Stilto Comunque dove Non era conosciuto In quanto Avengers Daredevil è uno dei personaggi Che ha ancora Un'identità segreta Insieme a Spider-Man Che finalmente L'ha riguadagnata E ci tiene Particolarmente Alla sua identità segreta Al punto che Conosce perfettamente Gli accordi di Sokovia Che finalmente Vengono Rispolverati Vengono Rinominati Dopo che Non se n'è più saputo nulla Dopo Infinity War Perché in Civil War Sono stati Stabiliti Poi c'è stato Il caos Nel mondo C'è stato il blip C'è stato Thanos Ma nessuno Sa più Che cosa hanno fatto Con gli accordi di Sokovia Finalmente Ci hanno detto Cosa è successo Gli hanno abrogati Se non sapete il termine Vuol dire che Gli hanno tolti Non valgono più Di conseguenza Persone come Daredevil Possono esercitare La La funzione Di supereroe Senza Dover essere schedati Anche se Vi ricordo Che nelle MCU Gli accordi di Sokovia Valevano per gli Avengers E non per tutti i supereroi Come nei fumetti Però Daredevil Scusate Matt Marduk Ci ha tenuto A ricordarci Anzi a dirci Per la prima volta Espressamente Che gli accordi di Sokovia Non sono più validi E quindi Un supereroe Non Se non vuole lui Non è tenuto A rivelare La sua identità segreta Mi è piaciuta molto Anche la parte D'azione Tra Daredevil E She-Hulk In cui finalmente Ci mostrano Il Daredevil Della MCU Combatterà Addirittura Con un nemico Talmente potente Da essere Molto sopra La sua forza Però Daredevil Riesce a batterla Con l'agilità E che agilità È un'agilità Molto superiore A quella di Netflix Anche perché Qui abbiamo visto Un massiccio Utilizzo Della CGI Sia per She-Hulk Che credo Abbia una delle CGI Migliori In questo episodio Ma anche per Daredevil Che in alcuni punti Chiaramente Non hanno fatto in modo Che ci fosse uno stuntman A fare certe azioni Ma semplicemente Le hanno messi in CGI Lo si capisce Perché è molto più leggiadro Rispetto al Daredevil Di Netflix Però ci sta Cioè ci sta anche Narrativamente Ci sta Che Daredevil Dia il suo massimo In uno scontro Del genere Anche perché Se She-Hulk Lo prende per sbaglio Lo ammazza Quindi ci sta Che lui Tiri fuori il massimo Della sua agilità In questo scontro Mi è piaciuto davvero Vederlo Ci sono due forzature Perché tutti avevano paura Che Daredevil Sarebbe stato Snaturato In questo episodio Ci sono delle forzature Se conosci Daredevil A tutto tondo Se sai a memoria La serie Se ti sei appassionato A ogni singolo Sudore Che c'è in quella In quella serie tv No Se conosci il fumetto No Se conosci Superficialmente La serie Netflix Di Daredevil Sì ti può sembrare Una forzatura Il fatto che Daredevil Faccia molte battute Anche sulla sua condizione Di non vedenti In realtà È perfettamente in linea Con l'umorismo di Matt Che È andato abbastanza In fretta Puttane Soprattutto nella stagione 3 di Daredevil Perché comunque Era molto Molto Segnato Da Da quello Che gli era capitato Ma normalmente Matt aveva fatto Anche delle battute Se noi lo vediamo Per esempio Con la famiglia di Foggy È sempre sorridente Con loro E qua vediamo appunto Un Matt Marduk Che fa una battuta Sul fatto che stava guidando Nonostante sia non vedente O quando Daredevil Si sta Battendo con Hulk E con Shulk Scusate Shulk fa il suo schiaffo sonico Cerca di spiegarle I suoi poteri Dicendo Ho un ottimo udito Quanto meno ce l'avevo Prima che tu facessi Questo schiaffo E quindi Tutte queste battute Ci stanno perfettamente A parer mio E ci stanno perfettamente Anche perché Se un domani Dovremmo vederlo insieme a Spider-Man Saremo anche abituati A questa versione Di Daredevil Che riuscirà A controbattere Quanto meno Le battute di Spider-Man Che vi ricordo È quello di Tom Holland Non è lo Spider-Man Di Andrew Garfield Quindi Cioè Le battute che farà Holland Non saranno battute Saranno frasi tremolanti Da insicurezza Forse sarà Matt Marduk A fare le battute In questo caso Quindi Quanto meno Avremo un personaggio Divertente Tra i due Per quanto riguarda Invece La parte Amorosa Ripeto Ci sta tantissimo Perché appunto Matt Marduk Non è nuovo Ad avere dei flirt Con Con delle Con delle bellissime donne E in questo caso Jennifer Walters Lo abbiamo visto In tutta la serie Fino a qui È molto aperta Da questo punto di vista È molto emancipata Anche sessualmente Lei non ha problemi A cercare un partner Sessuale Ma anche un partner Che Finalmente La soddisfi Anche come persona E Daredevil Una volta tanto L'ha vista Passatemi il termine Per quella che è Forse proprio perché È non vedente Forse proprio perché È non vedente Non gliene frega un cazzo Se lei è She-Hulk O è Jennifer Walters Anche se tecnicamente Con l'ecolocalizzazione La percepisce Ed è molto figa Questa cosa Che Finalmente Lei è felice Da questo punto di vista È appagata Da questo punto di vista Per l'esperienza Che ha avuto Con una persona Che finalmente La possa comprendere Perché ci voleva Daredevil Come ho detto all'inizio Perché suo cugino Hulk Non bastava Suo cugino Hulk Poteva spiegarle Come gestire La parte Hulk Ma non sa nulla Di Di legge Di essere un avvocato E lei Non riusciva A convergere Queste due realtà Ci voleva un altro supereroe Avvocato Che gli spiegasse Il suo punto di vista Che lei ha fatto suo Matt Marduk Gli ha spiegato Che con i poteri Che lei ha Può essere Jennifer Walters Per Radrizzare i torti Che la società Fa alla gente Radrizzarli con la legge E usare She-Hulk Per radrizzare i torti Che la legge Non riesce A radrizzare Con questa visione Lei finalmente È completa Finalmente Riesce a Unire Le due parti Di se stessa La parte dell'avvocato E la parte Da supereroina Anche se è una supereroina Inerba Tant'è che c'è stata Un po' Una diattriba Su chi Doveva comandare Questa squadra Finalmente Vediamo anche Una Jennifer Walters Che non si lamenta Del mansplaining Ma capisce Che la persona Che ha accanto Le sta spiegando le cose Anzi glielo dice espressamente Matt Perché non le ha mai fatte prima E quindi è giusto Che lei segua Qualcuno Che ha Più esperienza Nell'infiltrarsi Nello stilt Poi è molto È anche molto carino Che lei improvvisi Spaccando tutto Anche se Rischia davvero Di far del male A delle persone Se non si controlla La scena in cui lancia Un'auto Addosso a Daredevil Io spero vivamente Che fosse per rallentarlo Perché se lo prendeva Lo ammazzava Non è molto esperta Ma al di là di quello Le uniche due scene Le uniche due volte In cui ho trovato Matt Marduk O Daredevil Forzato In questo episodio E quando La prima è stata Quando Durante la Diciamo Il confronto In tribunale Ha detto Al giudice Frogman Sta mentendo Non chiedetemi Perché lo so Ma lo so Nessuno te l'ha chiesto Matt Non gliene frega Un cazzo nessuno Anzi il giudice L'ha detto Tutti abbiamo capito Che sta mentendo Ecco lì mi è sembrato Un po' il Sbandierare i poteri Ma poi Tirare indietro la mano Perché sì È una cosa un po' Bambinesca Ma una cosa che potrebbe Servire a un dodicenne A un O a un ottenne Che sta guardando la serie E dice Eh sì perché Daredevil Ma un adulto Che la guarda Dice sì Ok Matt Lo so Lo so che senti Se uno sta mentendo Non per i coglioni Non flexare le cose Se tanto non puoi dire Che sei Daredevil E questo mi ha dato un po' Fastidio Ma si tratta proprio Di due secondi Di scena L'altra cosa Un po' eccessiva Però mi ha fatto ridere È il fatto che Matt Mardok Esca dopo aver trombato Tutta notte Con Jennifer Walters Esca di casa E faccia come ha detto La Come ha detto L'amica di Jennifer La walk of Of shame Cioè la camminata Della vergogna Che è quella che si fa Quando si esce Dall'appartamento Di un partner sessuale La mattina dopo Lungo appunto I viali di Los Angeles No in questo Los Angeles Un York Che dir si voglia In questo caso Vediamo Daredevil Con il costume completo E senza gli stivali Probabilmente Perché è uscito di casa Senza far rumore Per non far rumore Per non svegliare Jennifer E lo vediamo Che tranquillamente Cammina Come se niente fosse Alla luce del giorno Però col costume De Daredevil Fa molto ridere È forzato Però ovviamente A livello narrativo Era l'unica opzione Che aveva Perché lui è andato In casa di Jennifer Walters Con il costume Non aveva altri vestiti Quindi o usciva in mutande O usciva così E quindi ci sta Pure questa cosa Che è una cacata Ci sta Nella narrazione Certo poteva camminare Sui tetti Ma non avrebbe dato Più nell'occhio così Che non camminando Tranquillamente per un viale Passando magari Per un cosplayer Per uno strambo Tanto Sono a Los Angeles È abbastanza normale E appunto poi Tra l'altro Non siamo neanche Nella sua città In cui tutti dicono Che cazzo sta facendo Daredevil Che cammina così Pestiamolo È in un'altra città È dall'altro capo Degli Stati Uniti Non gliene fotte un cazzo Ci sta tantissimo Fa ridere È forzato È un po' cringe Però ci sta L'hanno Sono riuscito a infilare Tutto molto bene Non mi dilungo sul finale Perché ho già parlato troppo Vedremo nel prossimo episodio Cosa è successo Però ecco Finalmente l'intelligenza Ha un po' tirato fuori Gli artigli E La cosa che più mi ha fatto paura Del finale di questo episodio Non è stato proprio La presenza dell'intelligenza Ma proprio il fatto Che la reazione di Jen Sarebbe stata molto Savage Molto Molto Savage Hulk Infatti temevo proprio Che si arrabbiasse In questo modo Io addirittura Temevo Che perdesse il controllo Per tutto il finale Invece devo dire Che ha recuperato la calma In pochi secondi Lo capite dalla dilatazione Della pupilla L'ha capito In pochi secondi Ma sono bastati Per farle rendere conto Che Per pochi secondi L'hanno vista Come un mostro rabbioso Come Come suo cugino Quando era Dissennato Però ecco Vediamo Vediamo Lo stupore finale Nella scena di Nella scena in cui Jen guarda in camera E chiaramente Ha visto qualcuno Vedremo Chi è quel qualcuno Vedremo se quel qualcuno È il generale Ross Che però L'attore purtroppo È scomparso Quindi o lo vediamo Nella forma Red Hulk Dato che è stato nominato Un Hulk rosso Ma penso sia solo Una citazione Così come Gli artigli Fatti con Con i make up Dell'amica di Jennifer Oppure se finalmente Vedremo Il leader Il capo Quindi l'attore Che ha fatto Il capo In Incredibile Hulk Nel 2010 E lo vediamo Finalmente con Il cranio Deformato Dal sangue di Hulk Vedremo Vedremo Sono molto curioso Se fosse il capo Sarebbe Fantastico Secondo me Avrebbe più senso Generale Ross Non avrebbe bisogno Di un'agenzia Per occuparsi Di Di Shulk Quindi Credo sia Il capo Vedremo Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Di questo episodio Fatemi sapere Se avete notato Dei riferimenti Altri riferimenti A Daredevil Che a me sono sfuggiti O che ho notato Ma che non ho nominato Scrivetelo qua sotto E io come sempre Vi ringrazio per avermi seguito Fino a qui Con l'inchino E con l'imbuto Vi saluto E vi dico Arrivederci Al prossimo video Grazie a tutti